Ed ecco costruita la barra da 100 metri, 150 volevo dire, mi sono sbagliato. Adesso facciamo la passeggiata, ora non c'è vento e mi tocca aspettare che faccia vento, almeno l'abbiamo costruita, adesso mi tocca fare una bella passeggiata. Appena spornata, pronta d'uso. E' per farvi vedere i cavi, quante prolunghe e quante attacchi che ho fatto per fare 150 metri. Ci stiamo avvicinando sotto all'arco blu qua, ma è più distante dell'arco blu. Prolunga su prolunga, cavi da 25-20 metri. Dal tempo che vedo qua, un minuto, due minuti, abbiamo oltrepassato l'arco blu. blu, andiamo avanti. Ecco qua, siamo arrivati alla fine. Ecco qua. Siamo arrivati alla fine. Ho percorso abbastanza metri, non so dire se siano 150, ma ho camminato per due minuti. Per due minuti e trenta secondi, e trenta secondi. Ecco, prossima prova in volo, col diciotto metri. Bye.